e neanche la grave crisi che AMA sta attraversando. Mi dispiace che oggi non c'è il collega Parisi, perché ha ragione, è necessario partire dalla realtà. E la realtà gliela voglio spiegare sia alle opposizioni che al collega Parisi, perché qui c'è una storia politica che viene da quella lotta. La realtà che riguarda Colleferro è la seguente. Il Comune si trova nella Valle del Sacco, oggetto dell'omonimo SIN, tristemente famosa alle croniche nazionali per tutte le problematiche ambientali e sanitarie. La realtà è che la popolazione residente nei pressi del Comune di Colleferro e non solo, e più in generale nella Valle del Sacco, convive quotidianamente da anni con le problematiche relative alla qualità dell'aria, ma soprattutto relative al beta-esacloro ciclosano, il lindano. Donne e uomini che hanno ancora il lindano nel corpo e sono costantemente sotto monitoraggio medico in un territorio in cui si muore di più rispetto al resto della regione Lazio. Vale la pena anche ricordare la discarica di Colle Fagiolara, che è inserita in un contesto di pregio agricolo e paesaggistico, che andava valorizzato e non ucciso con la discarica a fianco del Parco della Selva di Paliano. E poi ci sono i due termovalorizzatori e cementifici. Negli anni le amministrazioni di centrodestra, sia locali ma anche regionali, hanno pensato bene di concentrare tutto lì, tutto in una porzione di territorio. Bene, in questo contesto così articolato, alcune amministrazioni e alcune associazioni locali, come Reduvasa, hanno provato a tenere la schiena dritta e a resistere. E quindi hanno provato a ribaltare il tavolo. I comuni di Colleferro, Gorga, Gavignano, Carpineto Romano, Nemi, Genazzano e Labbico hanno posto in essere un nuovo gestore pubblico denominato Minerva, che vuole fare dell'economia circolare e del recupero in materia di fulcro delle sue azioni nel totale rispetto dell'ambiente. È la prima buona pratica della Regione Lazio. Questa è la situazione di partenza, cari colleghi e cari colleghi dell'opposizione. E io oggi voglio ancora ringraziare di nuovo l'assessore Valeriani e la Giunta per aver fatto proprio i principi espressi dal cosiddetto pacchetto di economia circolare nel percorso della gestione dei rifiuti, individuando come obiettivi strategici lo sviluppo di iniziative per la riduzione dei rifiuti, l'incerimento della raccolta differenziata, specialmente nella diffusione del porta a porta, la riconversione dei TMB che da rifiuto producono altro rifiuto, lo sviluppo dell'impiantistica di compostaggio, il ricorso a tecnologie e processi innovativi per il recupero di materia e la marginalizzazione delle discariche nel ciclo di smaltimento. Ed è un bene che oggi quest'Aula ribadisca di portare avanti il processo di dismissione dei termovalorizzatori di Colleferloro e la realizzazione di un nuovo presidio industriale, con un'impiantistica che andrà discussa nelle sedi opportune insieme agli amministratori locali e anche alle tante associazioni, chiedendo anche l'impegno al Presidente e all'Aggiunta affinché si stabilisca di fissare una data di chiusura della discarica di Colle Fagiolara entro il 2019. Voglio concludere con un cenno ai cementifici, perché quando il centrodestra non sta nell'istituzione e quindi non fa i danni con gli atti, li fa con le fake news. La storia del cementificio di Colleferro che brucia rifiuti è un falso. Poi l'assessore lo spiegherà meglio. Nessun rifiuto viene bruciato nel cementificio di Colleferro, ma soltanto determinate tipologie di scarti utilizzati dalla cottura del cemento, in rispondenza delle direttive europee e alle normative nazionali. Per bruciare i rifiuti nei cementifici di Colleferro servirebbe adeguare gli impianti con autorizzazioni della Regione e del Comune, autorizzazioni che fino ad oggi non ci sono e non ci saranno. Quindi occorre con grande senso di responsabilità sostenere l'assessore e l'Aggiunta tutta nel giungere quanto prima ad un piano rifiuti che dia una prospettiva nuova per il futuro della nostra Regione. Un piano di rifiuti che vede territori protagonista e dove ognuno deve fare la propria parte a partire dalla città di Roma, a partire dal TMB Salario di Roma, in cui i rifiuti producono altri rifiuti e a una vergogna il TMB come a una vergogna che nessuno si occupi del lato della città di Roma. Grazie. Chiesto di intervenire la consigliera Pernarella. Grazie.